L'Inter ha depositato i contratti dei vari giocatori acquistati fino ad oggi, è la società che si è mossa con più rapidità fino a questo momento, vedo che c'è tanta incertezza ancora sulla situazione portiere, il club non ha assolutamente dubbi, si partirà con Andanovic, la decisione è già stata comunicata da tempo a entrambi i giocatori, sia Onana fresco di ufficialità, manca ancora l'annuncio definitivo ma arriverà in queste ore, Onana partirà come secondo anche perché deve ritrovare la condizione migliore dopo il periodo abbastanza lungo di inattività e poi pian piano con il tempo inizierà magari a dar fastidio ad Andano invece inizierà ad esserci un po' di alternanza, ma inizialmente non ci sono dubbi, lo sono tutti diretti interessati, la linea guida è quella di partire con Samir Andano invece tra i pali e poi pian piano si vedrà. Le idee sono non chiare, chiarissime nella dirigenza nell'azzurra, anche nella testa dell'allenatore, tant'è che le mosse di mercato sono state subito ben delineate, definite, non ci sono stati dubbi di sorta in questo senso, i tifosi continuano a chiedere novità su Dybala, la situazione in questo momento vive una fase di stallo, perché? Perché l'Inter deve pensare anche alle cessioni, si continua a parlare di Skriniar, ma l'Inter deve innanzitutto far partire Sanchez, non è vero come molti stanno dicendo in queste ore che Sanchez si sarebbe messo di traverso e che stia rifiutando tutte le destinazioni possibili, questa cosa non trova riscontri, il giocatore si sta prendendo il tempo necessario per valutare, analizzare bene quelle che sono tutte le offerte, per magari cercare di trovare quella che è la squadra che rispecchi un po' più quelle che sono i suoi desiderata, ma sul fatto che anche lui debba lasciare l'Inter lo sa perfettamente e non si sta mettendo di traverso per cercare di spuntare cifre o buone uscite, anche perché è tutto abbastanza, anche da questo punto di vista, chiaro, messo nero su bianco, insieme a lui dovrà partire anche Arturo Vidal che ha già delle proposte formali, credo che questa settimana possa essere anche importanti in ottica uscita e da questo punto di vista nel momento in cui ci saranno queste uscite pesanti, importanti, pesanti anche dal punto di vista economico per le casse della società, non è da escludere che poi l'Inter si muova sulla situazione di Bala. Non è bastato l'arrivo di Lukaku per tranquillizzare i tifosi perché in tantissimi continuate a chiedere novità quando sarà ufficializzato, ma l'Inter come sapete ha degli obblighi richiesti dalla proprietà, fare un attivo di 60 circa milioni di Euro e abbassare i monti in gaggi di circa il 15%, di pari passo va registrata e riguardata un attimino, è centellinata la questione economica relativa a Di Bala, da quello che mi risulta l'offerta di Beppe Marotta è molto chiara ed è ben lontana da quella che si è scritta e letto in questa settimana un po' dappertutto, l'offerta dell'Inter è un triennale più opzione per il quarto anno a 5 milioni di Euro come base fissa più 2 milioni di bonus che varieranno in base alle presenze, gol, assist e poi titoli di squadra, non sono tutti facilmente raggiungibili, ma la base fissa sarà di 5 milioni di Euro, da quello che sappiamo il giocatore ha accettato questa ipotesi, va un po' limata la parte variabile, ma soprattutto va sistemata anche quelle che sono le commissioni con gli agenti dei giocatori su cui ancora non c'è totale accordo, se poi ci saranno altre società disposte a offrire cifre molto più importanti al ragazzo, questo lo scopriremo solo vivendo, ma al momento c'è un bel patto tra Marotta e Dybala che va avanti da tempo, da molto tempo e non si sono incontrati solo una volta nella sede dell'Inter davanti a tutti i colleghi, le parti si sono viste già più di una volta e questo fa capire che la trattativa è già stata impostata da diverso tempo. Poi come sempre ci vuole un accordo tra le parti, ma Dybala Dybala è mentalizzato già al vestire nero azzurro dove ritroverebbe quello che sono i suoi compagni nazionali, anche da una parte Dottor Martinez e poi Correa, su Correa bisognerebbe fare anche delle riflessioni perché l'Inter vorrebbe anche trovargli una sistemazione, ma lui che è molto amico con Dybala, due sono davvero, hanno un'amicizia profonda in questo momento non vuole lasciare l'Inter, vorrebbe giocarsi le sue carte. Da questo punto di vista vanno registrati anche dei cambiamenti, nel senso che fino a qualche settimana fa la società lontano da microfoni faceva chiaramente intendere che l'idea del club era quella di avere quattro attaccanti forti, più un jolly che può essere un giovane di prospettiva o un usato sicuro svincolato. Negli ultimi giorni quest'idea è un po' cambiata, nel senso che non si esclude di poter avere 5 attaccanti importanti, questo però cosa vuol dire? Vuol dire che dovrebbe essere sacrificato un altro giocatore, questo è evidente, il pensiero va chiaramente su Dumfries, che non è mai uscito dai radar di tanti club europei importanti e che a questo punto, nel caso in cui non si riuscesse a far partire un attaccante forte e quindi nel caso in cui l'Inter dovesse tenere il rosa 5 attaccanti di livello, questo vorrebbe dire che a stretto giro di posta il sacrificato dovrebbe essere Dumfries, che a sua volta potrebbe essere sostituito da un altro giocatore, ma questo diventerebbe un'operazione di mercato in divenire, intanto lunedì arriva Bellanova a Milano per le visite mediche, chiaramente non sarà lui il titolare di quella fascia, nel momento in cui poi in ottica mercato non si riuscisse a far partire un attaccante, partire a Dumfries come vi dicevo prima e poi l'Inter dovrebbe trovare una sistemazione per andare a trovare un altro tassello da mettere lì a destra, da questo punto di vista si sta lavorando, ci sono già delle idee, però il mercato è sempre molto fluido, io vi ricordo che inizialmente l'Inter voleva vendere bastoni, nell'idea del club c'era l'idea di vendere bastoni, poi l'offerta su bastoni non è stata così importante, non è stata così alta e da questo punto di vista la società è stata costretta per certi versi a virare su Skriniar, su cui come sappiamo ci sono delle idee non chiare, chiarissime, è solo una questione di tempo, ma purtroppo sarà lui il sacrificato per le casse societari, lui che non sarebbe mai voluto andare via, che ha fatto di tutto per evitare la cessione, ma purtroppo le leggi di mercato vanno al di là di tutto, resterei perplesso se oltre a Skriniar dovesse partire anche De Vrij, cambiare due difensori titolari su tre secondo me sarebbe molto grave anche per gli equilibri di squadra, però anche da questo punto di vista bisognerà capire poi quali saranno le indicazioni di mercato, su Bremer la trattativa è abbastanza cristallizzata, nel senso che il giocatore ha dato la parola all'Inter e in Italia non ascolta altre opzioni che non siano l'Inter, se poi dall'estero dovessero arrivare delle offerte rinunciabili e nel frattempo l'Inter non dovesse chiudere l'operazione, come sapete fin quando non ci sono le firme, tutto può sempre accadere, però viviamo tutto giorno per giorno, senza ansie, senza problematiche, senza timori, perché mi sembra che da questo punto di vista la società stia lavorando non bene, benissimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi diamo sempre tutti gli aggiornamenti in diretta giorno dopo giorno, grazie per averci seguito.